Lavori di pubblica utilità come misura alternativa alla detenzione. Questa mattina è stata rinnovata la Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità tra il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Sulmona Marco Billi e la Caritas Diocesana di Sulmona Valva con il Vescovo Monsignor Michele Fusco. La Caritas Diocesana ha attivato la Convenzione per la prima volta nel maggio 2013, accogliendo nel corso degli anni circa un centinaio di persone in percorso giudiziario, offrendo loro la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità durante la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova. Per coloro che invece a seguito di condanna sono affidati in prova a servizio sociale dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Caritas Diocesana di Sulmona offre l'opportunità di svolgere attività di volontariato, come previsto da patto di affidamento durante l'intera misura. Il numero massimo di soggetti ammessi nella serie di via Porta Romana è 5 ed è necessario inviare tramite l'avvocato incaricato una formale richiesta alla Caritas Diocesana di Sulmona. Secondo la legge, la pena detentiva e pecuniaria inflitta da tribunale all'imputato può essere sostituita col lavoro di pubblica utilità, ovvero nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, tra gli altri, presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Queste iniziative, promosse in tutto il territorio nazionale, hanno come obiettivo il reinserimento nella società della persona come soggetto attivo e positivo e non come condannato nella costruzione del bene comune. L'opportunità di mettersi a servizio di chi soffre, prendere coscienza dei loro bisogni attraverso il contatto con le marginalità sociali incontrate nei luoghi in cui si sfolgono i lavori di pubblica utilità, favoriscono la consapevolezza dell'imputato circa le responsabilità derivanti della sua condotta e la promozione di valori essenziali quali la responsabilità, la solidarietà, la gratuità, il dono, l'altruismo, la promozione umana e culturale.